La morte del corpo fisico è un'illusione, come tutte le cose di questo mondo virtuale. La nascita e la morte sono l'alfa e l'omega della stessa cosa. Tutto questo discorso, premetto, non toglie il dolore della scomparsa, della perdita della fisicità della persona. Però, se noi andiamo a vedere in realtà che cos'è la morte, non è altro che ritornare a casa. Si può cominciare a non avere paura della morte entro certi limiti, perché un evento nuovo fa sempre un po' timore, apprensione lo dà a tutti. Ma questa grande paura che molti hanno può dissolversi. La morte non è altro che chiudere questo film virtuale e ritornare nel mondo vero. Gesù ci insegna, siete nel mondo, ma non siete di questo mondo, perché noi siamo spiriti o anime di una realtà che non ha spazio e tempo, che non è questa che percepiamo. Quindi morire non significa altro che essere di nuovo in quel nostro vero mondo. Poi in seguito, la rincarnazione poi è questo, non è niente di speciale, faremo altre esperienze di vita e quindi reciteremo altre parti in questo, in altri mondi virtuali. Quindi si ritorna, si va avanti il discorso del karma che conosciamo, ma il nostro vero mondo è quell'altro, è quello che noi oggi non ricordiamo, quello dell'invisibile, la scienza dell'invisibile di nuovo, quello è il vero mondo. Quindi morire non è altro che ritornare a casa, non c'è da spaventarsi.